ariete sentite di dover chiudere col passato e imboccare una nuova direzione ma prima di farlo dovrete risolvere alcune questioni ancora in sospeso toro non basate le vostre decisioni su supposizioni che potrebbero rivelarsi prive di fondamento e perciò molto pericolose gemelli una volta ricevute notizie da un amico che ha ottenuto un importante successo lontano da casa potreste decidere di imboccare anche voi la stessa strada cancro non potete correre il rischio di commettere un errore che vi farebbe imboccare una strada di non ritorno rimanete nell'ambito di ciò che conoscete alla perfezione leone sentite il disperato bisogno di sperimentare qualcosa di nuovo ma le uniche opzioni a vostra disposizione potrebbero essere pericolose vergine avete un paio di storie da raccontare che saranno una potente fonte di ispirazione per gli altri le vostre parole potrebbero addirittura cambiare la vita di qualcuno bilancia quello che sentirete dire sul conto di un vecchio amico vi farà venire voglia di rivederlo non aspettate che passi altro tempo scorpione fate pure gli spavaldi di fronte agli altri ma la verità è che ciò che dovete affrontare vi fa una gran paura sagittario avrete delle difficoltà a far decollare una nuova iniziativa ma forse perché il momento non è opportuno le cose domani potrebbero essere più facili capricorno una chiacchierata con un caro amico potrebbe portarvi a conoscenza di alcuni fatti che varrebbe la pena di approfondire acquario se volete sapere cosa passa per la mente delle persone che vi circondano fareste bene a chiederglielo apertamente pesci non avete la minima idea di cosa qualcuno voglia proporvi ma sarete tentati di dirgli di sì soltanto per movimentare la vostra routine